Come vogliamo essere salvati? Al modo nostro, senza rischio, o al modo di Dio, che sempre ci sorprende? Lo ha chiesto Papa Francesco nella messa del mattino celebrata nella cappella di casa Santa Marta, commentando il brano del Vangelo di Luca, nel quale Gesù si lamenta delle città che respingono i profeti e i discepoli inviati in missione, perché risultano scomodi a chi vuole la salvezza, ma non accetta quella di Dio e dice, salvaci Signore, ma a modo nostro. Ma è proprio la classe dirigente quella che chiude le porte al modo con il quale Dio vuole salvarci. E così si capisce i dialoghi forti di Gesù con la classe dirigente del suo tempo. Litigano, lo mettono alla prova, gli fanno trappole per vedere se cade. Perché è la resistenza a essere salvati.